Benvenuti nella rubrica Un Hitchcock al Mese, dove si recensisce come da titolo un film scelto del miglior regista di sempre. Il film di oggi è L'Uomo che Sapeva Troppo, cominciamo! Film di Alfred Hitchcock con Doris Day, Brenda DeBanzi, Bernard Miles e Christopher Olsen del 1956. La quiete della famiglia McKenna durante una visita a Marrakesh viene disturbata e sconvolta dall'omicidio di un uomo conosciuto durante il viaggio e che prima di morire rivela una preziosa informazione al padre di famiglia, da qui in poi nulla andrà come previsto. Il punto di vista che Hitchcock assume è quello di alcuni inglesi all'estero, che apprezzano le specialità del luogo e i tratti caratteristici, ma che allo stesso tempo rimangono interdetti di fronte a qualche comportamento ritenuto bizzarro. Tutto ciò dà il via a una prima parte densa di momenti umoristici, basati sul contrasto tra le due culture a confronto, che possiamo ritrovare nella sequenza del ristorante, con i due coniugi a disagio nel mangiare una pietanza, da loro ritenuta prelibata, con tre dita e che culmina con un surreale rimprovero da parte del cameriere, al goffo personaggio interpretato da James Stewart. Non è l'unica volta questa in cui Hitchcock si scaglia a suon di gag sulle strambi usanze di culture differenti dalla propria, come possiamo notare in Friends, dove il regista londinese è assai caustico e irresistibile nei confronti della Francia, soprattutto per quanto riguarda il cibo. Altra fonte di delizioso umorismo è il personaggio di Hank, che, nonostante la giovane età, sfoggia termini medici e un humor piuttosto adulto, che diverte e estranea lo spettatore. Ed è sul personaggio del bambino che ha incentrato l'intrigo, infatti Hank verrà rapito per tenere i scacchi due genitori in possesso di troppe informazioni. Per lo spettatore vedere l'innocenza oppressa dai mostruosi villain è un duro colpo, e Hitchcock utilizzerà ancora i volticandri dei bambini per angosciare ancora di più lo spettatore negli uccelli, dove li mostra come le vittime preferite dei temibili volatili. Hitchcock si destreggia con l'uso della suspense come nessun altro, e ogni sequenza è quanto più ricca possibile di espedienti, in grado di preoccupare il pubblico per la sorte dei personaggi e incatenarlo alla poltrona. La famiglia si troverà frammentata e sofferente, ed è il fulcro della tensione drammatica dell'opera, data ovviamente anche dalle varie ossessioni del regista, tra cui anche il tema dello scambio di persona, che dà il via al tutto. Oltre alla giovane età del personaggio più in pericolo, che renderebbe apprensivo anche lo spettatore più impassibile a rendere ogni situazione colma di angoscia, è una cura maniacale per tutti i mezzi cinematografici a servizio dell'intrigo, uno su tutti la colonna sonora, che regolerà gli equilibri della storia e sarà fondamentale a scardinarla, e a renderla indimenticabile, nella mente di ognuno. Nella prima delle sequenze dove la musica gioca un ruolo fondamentale, mentre la platea è concentrata sulla melodia, diversi esti di destini si andranno a decidere, e i personaggi conosciuti dal pubblico sudano freddo o armeggiano pistole, completamente estragnati dal contesto in cui sono. Nella resa dei conti, invece, per la madre del piccolo Hank, coesistono il ruolo di musicista e il ruolo di ingranaggio all'interno dell'intrigo, ed è uno dei momenti più alti del cinema cicocchiano, quando, durante l'esibizione canora, la madre si commuove quando sente il fischio di suo figlio, dopo tanto che non lo aveva più udito. Interessante come, nel confronto diretto tra il villain e l'eroe, James Stewart si troverà tremolante e gocciolante di sudore nello scendere da una rampa di scale, e non nel salirla come in vertigo. Il film può vantare una vasta gamma di sequenze da ricordare, ed è ancora oggi un punto di riferimento inossidabile per ogni cinefilo.